buonasera carissimo certo ma troppo che ne devono arrivare ancora ma non rompere le schiatole oh fa parte del gruppo mio sono d'accordo però qui hanno fatto tutte le italiane ah sì tu saluta ciao mamma ciao donna siamo senza macchina c'è il traffico siamo senza traffico siamo tanta roba tanta tanta roba attenti a quei due siamo senza arpa un'arpa la potremmo pure portare eh ti devi comprare un'arpa ok faccio questo va bene 1300 1600 o 2000 2000 2000 perfetto quella di ieri sera che ti sei persa domani ti porti va bene allora domani con quella hai che ha ma esco qua andiamo ma ha detto fratelli fa la cosa un pochino meglio ciao